Attenzione! Attenzione! Iniziamo subito con ansa.it che pone in primo piano i dati dell'Istat sul lavoro. Andiamo subito ad approfondire la questione. Calano i giovani a casa, sono meno 252 mila i net, ovvero i giovani che non hanno e non cercano neanche un'occupazione. Andiamo ad analizzare questi dati che ansa propone questa mattina. Scendono al 22,3% nel secondo trimestre del 2016 i ragazzi che non sono impegnati né a scuola né a lavoro, ovvero i net, not in education, employment o training. Erano al 25% nel secondo trimestre del 2013, sono adesso quindi diminuiti di oltre 250 mila unità in un anno, sempre secondo l'Istat. Nei secondi trimestri l'incidenza dei net, cresciuta dall'inizio della crisi fino al 2013, è rimasta stabile tra 2014 e 2015 per poi scendere in questo secondo trimestre del 2016 al 22,3%. Nel secondo trimestre del 2016 l'occupazione complessiva cresce in modo sostenuto rispetto al trimestre precedente, un più 0,8% e con una dinamica positiva che con diversa intensità riguarda tutte le tipologie. Questo è proprio il comunicato dell'Istat che segnala per i dipendenti a tempo indeterminato un più 0,3%, per quelli a termine più 3,2% e per gli indipendenti un più 1,2%. Su base annua la crescita complessiva è di 439 mila occupati con una significativa crescita degli occupati di 15-34 anni, questa è la fascia presa in esame, e su base annua è pari a 223 mila unità in più. Questi sono i dati che l'Istat propone stamattina. Stamattina è anche un giorno importante per tantissimi studenti che ritornano a scuola, primo giorno di scuola con il ministro Giannini che invia gli auguri a ragazzi e docenti. Li troviamo proprio su ansa.it, andiamo a leggerli. Stamattina milioni di studenti celebrano il rito del primo giorno di scuola, con quel carico di aspettative e anche di preoccupazioni che il ritorno tra i banchi porta con sé. Ai nostri ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti, a tutto il personale della scuola faccio i miei migliori auguri. Lo ha scritto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini sul suo profilo Facebook in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Sarà un anno di sfide importanti e grandi responsabilità. Le affronteremo con molti strumenti in più rispetto al passato per fare della scuola il vero motore del cambiamento, uno spazio da abitare non solo durante l'orario delle lezioni, una scuola al centro di ogni comunità, aperta alle realtà che la circondano, alle famiglie, al territorio. Una nuova scuola insieme. Questo è l'intervento del ministro dell'istruzione, che poi si è rivolta attraverso i social ad alunni e docenti che da oggi tornano in classe. Dice loro benvenuti, bentornati, buon inizio. Questo è il post del ministro Giannini lasciato sul social network Facebook. Andiamo a parlare invece adesso del terremoto nel centro Italia. Il comune di Amatrice, querela Charlie Hebdo, dopo la notissima vignetta della testata francese, ha depositato questa mattina nel comune di Amatrice, presso la procura del Tribunale di Rieti, una denuncia querela per diffamazione aggravata relativa alla vicenda delle vignette pubblicate dal periodico francese Charlie Hebdo. L'atto è stato presentato dall'avvocato Mario Cicchetti in qualità di legale dello stesso comune colpito dal sisma del 24 agosto. Il periodico francese Charlie Hebdo, nella prima vignetta dedicata al terremoto del centro Italia, secondo quanto espongono nella querela i legali del comune di Amatrice, aveva raffigurato le vittime del sisma in modo tale da somigliare a degli stereotipati piatti della tradizione culinaria italiana, mentre una seconda vignetta aveva attribuito la colpa della devastazione del centro Italia alla mafia. Si tratta di un macabro, insensato ed inconcepibile vilipendio delle vittime di un evento naturale, ha spiegato l'avvocato Cicchetti. Continuiamo la nostra rassegna stampa con una notizia dagli esteri, in particolare dagli Stati Uniti, dove c'è apprezzione per Hillary Clinton, un malore a Ground Zero, a la polmonite, cancellato quindi il suo viaggio in West Coast. Andiamo a leggere la notizia. Hillary Clinton ha cancellato dalla sua agenda il viaggio in programma per oggi e domani nella costa occidentale degli Stati Uniti, in seguito ad un malore accusato durante la cerimonia Ground Zero nel quindicesimo anniversario degli attentati alle Twin Towers. Un malore causato da una polmonite, secondo quanto dichiarato da Lisa Bardock, medico curante della candidata democratica alla Casa Bianca. Hillary Clinton doveva volare oggi in California per due giorni dedicati alla raccolta di fondi per la sua campagna elettorale, per un'apparizione nel talk show televisivo condotto da Ellen DeGeneres. Una brutta tegola per la candidata democratica, a meno di due mesi dalle elezioni presidenziali dell'8 novembre, quando insieme a Donald Trump sarà impegnata nel rush finale a partire dai tre dibattiti televisivi in programma. Il colpo di scena, dopo tanti misteri attorno all'episodio di questo malore a Ground Zero, è arrivato nella serata di ieri con una dichiarazione del medico curante. Come ha spiegato in una nota, la polmonite sarebbe stata diagnosticata dalla Clinton venerdì scorso in seguito ad esami più approfonditi eseguiti per capire le cause di una tosse prolungata, troppo prolungata per essere soltanto la conseguenza delle allergie di cui Hillary soffre e quindi il medico che assicura, come adesso l'ex first lady si stia riprendendo bene, spiega come la candidata alla Casa Bianca era stata sottoposta ad una cura a base di antibiotici e era stato anche consigliato di restare a riposo e di modificare l'agenda dei suoi impegni. Andiamo avanti con un'altra notizia. Adesso ci occupiamo di economia con i dati della borsa. Monte dei Paschi giù in Piazza Affari meno 3,6%, quindi perde MPS il 3,6 a 0,23 euro sul listino milanese, i titoli sono comunque tutti in rosso. L'FTSE MIB cede l'1,9%, a breve dovrebbe essere nominato il nuovo amministratore delegato dell'Istituto Senese dopo l'addio di cui abbiamo parlato nei giorni precedenti, di Fabrizio Viola. A pesare sull'andamento in borsa della banca potrebbero essere anche le voci sull'ipotesi che nell'aumento di capitale fino a 5 miliardi previsto dal piano di risanamento possa essere escluso il diritto di opzione. Andiamo a leggere un'altra notizia dagli esteri. L'Unione Europea alle multinazionali statunitensi dice di pagare correttamente le tasse. Il mio messaggio alle multinazionali è state combattendo la battaglia sbagliata, è tempo di voltare pagina, i tempi stanno cambiando, dovete pagare le tasse in modo corretto, parte negli Stati Uniti e parte nell'Unione Europea. Preparatevi a farlo. Lo ha detto il Presidente dell'Eurogruppo e Ministro delle Finanze olandese, Jeroen Gieselberm, a margine dell'Ecofin. Ha spiegato di non condividere la posizione di quanti vedono un'intromissione eccessiva da parte della Commissione sul fisco dopo la vicenda legata alla Apple. Ha un mandato ad indagare sugli aiuti di Stato anche nel campo della politica fiscale. Quindi aspettiamo il giudizio della Corte. Le multinazionali hanno il dovere di pagare le tasse in modo equo. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme per assicurarci che lo facciano. Ha aggiunto Gieselberm e il Commissario agli Affari Economici Pier Moscovici ha confermato che fine ottobre, metà novembre, presenterà la proposta che punta a creare una base imponibile comune e non c'è un momento migliore per rilanciarla. So che la frustrazione dei cittadini cresce, ha detto proprio Moscovici, ribadendo che la decisione sulla Apple manda il segnale chiaro che gli anni di elevazione sono finiti e non si possono aggirare le regole degli aiuti di Stato. Con questa notizia ci fermiamo. Torneremo subito con tutte le altre notizie di quest'oggi e fra poco. Grazie.